Croccanti e filanti! Delle patate così saporite non le hai mai provate! Dai una svolta alle classiche patate al forno con questa ricetta facilissima! Taglia le patate nel senso della lunghezza senza arrivare fino in fondo. Dovrai creare tante fessure e ottenere questo risultato. In un pentolino versa l'olio, il rosmarino e l'aglio. Lascia rosolare per qualche minuto. Preleva un po' d'olio aromatizzato e usalo per spennellare bene le patate sulla teglia. Vedrai quanto saranno saporite! Infine, cospargi di sale e inforna a 180 gradi per 40 minuti. Intanto metti l'olio rimanente sul fuoco e aggiungi il burro. Una volta sfornate le patate, dai un'ultima spennellata di olio e condisci con le erbe che preferisci. Sarebbero già ottime così, ma se vuoi un risultato più goloso, aggiungi della mozzarella ricoprendo bene tutta la superficie. Poi inforna a 180 gradi per altri 5 minuti. Guarda che risultato croccante e filante! Non dimenticare di iscriverti al canale! Non rischiare di perdere altre ricette golose come questa! Non rischiare di iscriverti al canale!